Come va il suo figlio? Ma che te stai a fare, hai visto internet? Ma no, sto girando appiccicaccio. Attendere, prego. Quarantasettesima Napoli, quarantacinquesima Juventus, quarantunesima Fiorentina, quarantunesima Inter, trentacinquesima Roma, trentatresima Milan, trentaduesima Sassuolo, trentaduesima Empoli, trentunesima Lazio, ventisettesima Chievo, ventiseiesima Torino, ventiseiesima Bologna, ventiseiesima Atalanta, venticinquesima Palermo, ventiquattresima Udine, ventitresima Genoa, ventitresima Sampdoria, diciannovesima Carpi, sedicesima Frosinone, decima Verona. Attendere, prego. Grandi veggenti d'Italia, siamo un'equipe di astrologi, di cartonanti, atti a risolvere i vostri problemi ed aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Attendere, prego. A sole 399.000 lire più IVA, ecco il computer più forte del mondo. Monito, tastiera, registratore, joystick. Attendere, prego. Stereo, Wi-Fi, 7 testine, telecomando con 500 funzioni e titolatrice. Vuole una spingarella a livello software? Per due, per quattro, per otto, per sedici. Perché non te la compri, eh? Stereo, ieri. Perchè non Telacampri, eh? Perchè non Perchè non